Musica Rifiuti Vallo di Diano, dubbi sulla Costituzione del SAD, dall'EDA e l'invito a deliberare, i comuni prendono tempo. Tribunale di Sala Consilina, l'On. Matera ha deciso nella lotta per la riapertura, è la madre di tutte le battaglie per restituire dignità al territorio. Sanità in Cilento, il San Luca di Vallo della Lucania al Collasso, l'ospedale di Agropoli in Restona, cattedrale nel deserto. Rischio frodi per gli utenti in bank, dalla Banca Montepruno l'invito a non comunicare mai le credenziali di accesso. Sant'Arsenio, partito il 9 agosto, il progetto estivo organizzato dall'Associazione Artista Doc. Ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News in apertura. Parliamo del tema rifiuti perché si restringono i tempi per la costituzione del subambito distrettuale ecodiano per la gestione dei rifiuti. Entro il 30 settembre va approvato lo schema di convenzione con l'Eda, pochi giorni ancora, per deliberare definitivamente sulla costituzione dell'ente, su cui però i comuni chiedono di vederci chiaro. Vediamo. Entro il 31 agosto i comuni del Vallo di Diano saranno chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla costituzione del subambito distrettuale per la gestione dei rifiuti. Dall'Eda è infatti arrivata una nota a tutti i comuni valdianesi in cui si invitano le amministrazioni ad adottare apposita delibera di giunta sulla volontà di costituire il subambito per la gestione comprensoriale dei rifiuti con l'approssimarsi della scadenza del 30 settembre entro cui dovrà essere approvato lo schema di convenzione con l'Eda. Un tema affrontato al Consiglio Generale della Comunità Montana su relazione dell'assessore Antonio Pagliarulo anche in qualità di esperto. Tema particolarmente caldo ma anche ostico che ha portato nel corso dell'incontro anche ad aprire una seria riflessione sull'effettiva costituzione del subambito per l'incertezza sul metodo di gestione ma soprattutto sulla questione relativa poi alla definizione delle tariffe con i comuni che vorrebbero mantenere l'autonomia per evitare di farsi carico di costi che dovrebbero gravare solo su alcuni comuni e ritenendo opportuno garantire tariffe basse per gli enti virtuosi. Da considerare poi l'assenza di impianti dato che influisce sul costo effettivo dello smaltimento dei rifiuti stessi. In caso di costituzione del SAD, Ecodiano, secondo quanto emerge, sarà necessario individuare un comune capofila che al momento non vede candidati. Esclusa l'ipotesi della comunità montana cui, secondo quanto dichiarato dal dottor Bruno Di Nesta, direttore generale dell'Eda, sarà possibile solo demandare alcune funzioni, fermo restando che la responsabilità dovrebbe comunque permanere a carico del comune capofila. I sindaci vogliono vederci chiaro prima di procedere ad un atto deliberativo sulla materia, sia per comprendere il grado di autonomia degli stessi, ma anche per capire in che modo si dovrà procedere. Nel corso dell'incontro di lunedì sera, l'assessore Pagliarulo ha illustrato a grandi linee il progetto di affidamento, evidenziando, tra le altre cose, come la gestione del servizio potrebbe vedere in campo anche una società mista pubblico-privato. Anche in questo caso, però, l'argomento meriterebbe un'attenta riflessione finalizzata ad evitare futuri problemi di difficile risoluzione. Una serie di chiarimenti e di valutazioni che hanno frenato il raggiungimento di una decisione in merito, tutto rimandato a dopo Ferragosto, quando si terrà un incontro con il direttore di Nesta, per chiarire alcuni punti. All'incontro parteciperà una delegazione di rappresentanti del territorio che si occuperà di raccogliere opportune risposte ai quesiti posti dei sindaci in sede di Consiglio Generale. Laddove si decida di non procedere alla Costituzione del SAD, la gestione della materia rifiuti sarà di competenza dell'Eda Salerno. E lunedì scorso, nel corso del Consiglio Generale, subito dopo il Consiglio Generale della Comunità Montana Vallo di Diano, si è stata convocata anche la conferenza dei sindaci del distretto sanitario 72, nel corso del quale si è proceduto alla elezione del nuovo Presidente, il nome scelto è del Sindaco di San Rufo Michele Marmo, al quale arrivano ora gli auguri anche dell'uscente Francesco Cavallone, attuale Presidente dell'Ente Montano. In ragione dell'amicizia e della stima che ci lega, scrive, rivolgo il mio più sincero augurio di una proficua amministrazione nell'interesse di tutta la collettività. Non posso esimermi dal rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi sindaci per la stima e la fiducia accordatami e leggendomi nell'aprile del 2016 per l'impegno speso nel periodo della mia presidenza, nonché al dottor Giuseppe Di Fluri, direttore sanitario, fino al primo maggio del 2018 e all'attuale direttore sanitario, dottor Claudio Mondelli, per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione offerta al sottoscritto che hanno permesso l'attuazione di un'importante azione sinergica per rendere sempre più efficiente il distretto sanitario 72 e garantire un servizio eccellente alle comunità locali. Andiamo avanti, parliamo ora del Tribunale di Sala Consilina, la condivisione da parte di tutti i gruppi consigliari in regione Campania della proposta di legge presentata dall'onorevole Corrado Matera, rappresenta un importante passo per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina, ne è convinto l'onorevole Matera che ha evidenziato le anomalie nell'applicazione della legge con l'accorpamento fuori regione del Tribunale Salese e sottolinea anche come da quella chiusura, sono poi derivate tutta una serie di penalizzazioni e ulteriori chiusure. Per Matera la lotta per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina è la madre di tutte le battaglie. Ascoltiamolo. Questo è uno schiaffo che il territorio ha avuto nel 2012. La chiusura del Tribunale di Sala Consilina è qualcosa di inaccettabile. Tenga presente che si tratta davvero di un caso unico in Italia, un Tribunale che funzionava bene, che viene inserito in un'altra Corte d'Appello, Lago Negro, Potenza, con un carico di lavoro che per il 75% proviene dal nostro territorio e penso che sia qualcosa di inaccettabile. Per cui una proposta di legge, lei diceva bene, che ha trovato la condivisione di tutti i gruppi in Consiglio regionale, un impegno anche a sostenere questa proposta da parte dei singoli gruppi anche attraverso i propri riferimenti parlamentari e governativi. Io penso che è una discussione che decisamente si può aprire e sono prudentemente fiducioso. Lei sa bene che queste sono battaglie importanti. Riaprire un Tribunale chiuso è sempre difficile, però io penso che si stanno facendo tutti i passaggi giusti perché è una situazione anche di dignità territoriale. Io ho sempre sostenuto che la riapertura del Tribunale è la madre di tutte le battaglie. Lei sta notando che negli anni stiamo perdendo dei servizi importanti proprio perché non vi è un Tribunale. è importante essere uniti, fare squadra, mettere da parte le appartenenze politiche e fare una battaglia di territorio, chiamando a responsabilità tutte le forze politiche. Novità per gli automobilisti di Monte San Giacomo. Da questa mattina sono presenti in paesi ulteriori dissuasori di velocità, due nello specifico in Viale Oboken, dove è stato anche istituito il limite di velocità a 30 km orari. L'attenzione in questo caso è particolarmente riservata al Parco Giochi nella Villa Comunale, sempre molto frequentato da ragazzi e famiglie con bambini. Si confida nella comprensione e disponibilità di tutti affinché l'area possa essere più sicura, commenta il sindaco Raffaele Accetta, che già nei giorni scorsi aveva annunciato l'iniziativa. Il tratto di strada che costeggia il Parco Giochi è un rettilineo, compreso tra l'intersezione tra Via Michele Espina e Via Villa Comunale Seconda e si presta a condotte di guida poco rispettose, generando situazioni di potenziale pericolo. E' stato anche teatro di un rocambolesco incidente avvenuto lo scorso 11 ottobre, proprio in un punto vicino allo spazio, con le giostrine un'auto a bordo. Un'intera famiglia è finita fuori strada e poi in una piccola scarpata che si trova proprio di fronte ai giardinetti. In quel caso, solo per fortuna, non si sono verificati i casi di tragedia. E andiamo avanti. Green Pass, il Ministro dell'Interno ha chiarito con una nota la questione relativa ai controlli dell'identità. I gestori sono obbligati a verificare la validità del certificato verde, ma la verifica dei documenti è discrezionale. Vediamo. Chi dovrà controllare il Green Pass, il Viminale è intervenuto per cercare di mettere ordine su competenze e responsabilità. Secondo la recente circolare del Ministero dell'Interno, l'unico obbligo per i gestori sarà quello di esigere il certificato verde per far entrare il cliente, ma non è escluso che possano chiedere, anche di esibire, un documento di identità in alcuni casi, qualora ad esempio fosse palesemente falso o intestato a qualcun altro. Sebbene non siano pubblici ufficiali, spiega il garante della privacy, hanno titolo per controllare l'identità dell'intestatario del Green Pass. La verifica, si legge nella circolare del Viminale, che in realtà è solo un chiarimento interpretativo di quanto detto nel DPCM del 17 giugno scorso, non ricorre indefettibilmente, ma nei casi di abuso o elusione delle disposizioni. In soldoni, addetto ai gestori, ma anche agli steward e agli addetti alla sicurezza, in caso di eventi, non siete obbligati a chiedere documenti di identità, ma se volete potete farlo. Se l'avventore dovesse rifiutarsi, a quel punto possono chiamare le forze dell'ordine e la sanzione sarà applicata solo all'avventore. Se invece il titolare consente l'ingresso senza Green Pass, anche per lui scattano sanzioni pesanti. Alle forze di polizia intanto spettano i controlli, che anche se a campione assicurano saranno massicci, soprattutto nei luoghi turistici e della Movida. Occupiamoci ora di sanità in Cilento. Gravi disagi e carenza di personale medico si sta registrando al San Luca di Vallo della Lucania, mentre l'ospedale civile di Agropoli, che potrebbe dare un grande supporto, non è in funzione come prima e resta una cattedrale nel deserto. Vediamo. All'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in questi giorni si registrano gravi disagi e carenze di personale medico. Non è la prima volta che succede. A denunciarlo sono proprio i cittadini e i turisti presenti nei comuni cilentani. Non si può prestare assistenza sanitaria con un solo medico se in pronto soccorso le persone che necessitano di urgenza sono tante, dice un cittadino. Questa mattina sono arrivato in pronto soccorso perché mi sono ferito gravemente sul posto di lavoro. Quello che mi si è palesato quando sono arrivato presso la struttura è stato davvero angosciante. Una fila di persone attese, ambulanze in fila, disagi e disservizi già dalle prime ore di questa mattina. Il San Luca di Vallo della Lucania è l'unico ospedale di riferimento ed è al collasso. A pochi passi però da Vallo della Lucania c'è una struttura, l'ospedale civile di Agropoli che potrebbe dare un grande supporto dal punto di vista sanitario visto che è una costola del presidio vallese solo che le sue sorti sono state purtroppo già definite e per questa cattedrale nel deserto nulla servirà a farla tornare in funzione come prima. In un momento storico così delicato e soprattutto quando nel periodo estivo la popolazione triplica e anche gli accessi al PS sono davvero tanti invece di riorganizzare e potenziare a supporto dei numerosi accessi ospedalieri il presidio agropolese di reparti importanti per l'assistenza vera al cittadino si manda al collasso l'unica struttura presente sul territorio e per di più si vogliono garantire le prestazioni sanitarie in pronto soccorso con un solo medico di turno. Una situazione grave e anticostituzionale nonostante il diritto alla salute, l'articolo 2 della Costituzione italiana lo indichi come il più importante dei diritti soggettivi e uno dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti. Utenti in bank nel mirino di malfattori la denuncia arriva dalla banca Montepruno che invita gli utenti alla massima attenzione a non fornire mai le credenziali di accesso a in bank un messaggio ed una telefonata per compiere l'operazione fraudolenta. Vediamo. Rischio frodi per gli utenti di in bank dalla banca Montepruno arrivano le raccomandazioni a clienti e utenti al fine di evitare i possibili frodi che potrebbero essere perpetrate a danno degli utenti stessi con attacco sui conti. Dall'istituto di credito diretto da Michele Albanese arriva l'invito forte a non comunicare mai a nessuno i dati di accesso ai conti correnti e men che meno a dipendenti o collaboratori della banca. Pare infatti che si stiano verificando casi di telefonate da parte di fantomatici dipendenti della banca che chiedono insistentemente di fornire le credenziali di accesso al servizio di in bank. L'invito arriva a seguito comunicazione alla banca Montepruno arrivata da parte del servizio Information Security che ha fornito anche utili raccomandazioni per impedire l'attacco fraudolento a danno degli utenti perpetrato con una tecnica particolarmente insidiosa che parte con l'invio di un messaggio in cui si comunica il blocco del conto per motivi di sicurezza si legge nel messaggio fraudolento il suo conto è stato temporaneamente disabilitato per anomalie e a breve un nostro operatore si metterà in contatto con lei si prega di seguirlo nei passaggi. Segue quindi l'annunciata telefonata del fantomatico dipendente che parlando di urgente necessità in maniera insistente e tale da non consentire all'utente di rilevare la frode invita lo stesso a fornire le credenziali di accesso. È fondamentale sottolineare al fine di limitare al massimo i rischi connessi a questi attacchi scrivono dalla banca Montepruno di non comunicare mai le credenziali di accesso in bank e relativa a password ad alcun dipendente o collaboratore della banca Montepruno né tantomeno a soggetti terzi in quanto in tali telefonate verranno richiesti codici di accesso e password OTP alla piattaforma per poi disporre bonifici. Invitando quindi i clienti alla massima attenzione l'istituto di credito invita anche a contattare la propria filiale di competenza o l'ufficio sistemi pagamento in caso vengano riscontrate anomalie o situazioni dubbie. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG con una caccia al tesoro ecologico e partita a Sant'Arsenio il progetto estivo, il campo estivo 2021 organizzato dall'associazione Artist Ad Hoc dal 9 al 31 agosto diverse le attività proposte con un'attenzione particolare rivolta al rispetto dell'ambiente. Vediamo. Dal 9 agosto a Sant'Arsenio ha preso il via progetto estivo il campo estivo organizzato dall'associazione Artist Ad Hoc presieduta da Lusi Amabile con la benedizione di Don Angelo Fiasco alla presenza del sindaco Donato Pica e la dottoressa Maria Consiglia Viglione per sensibilizzare i bambini al delicato tema dell'ambiente con una caccia al tesoro ecologica e ufficialmente partito progetto estivo ideato da Angela Stabile patrocinato dal comune di Sant'Arsenio la regione Campania e il consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni il progetto mira a favorire esperienze che risultino non solo piacevoli ma anche socialmente educative e formative. I partecipanti verranno impegnati quotidianamente in attività di salvaguardia dell'ambiente balli, musica, teatro, uscite fuori porta e tante altre attività che permetteranno di vivere concrete esperienze di socializzazione in una dimensione nello stesso tempo di gioco ed educativa. Tra sorrisi di gioia, coccole e tanto divertimento dicono soddisfatti gli organizzatori in occasione dell'inaugurazione questa è sicuramente una di quelle giornate che restano nel cuore e nei ricordi di tutti noi dopo i ringraziamenti al parroco ai rappresentanti dell'amministrazione comunale gli organizzatori hanno voluto ringraziare Michele Gentile i due volontari della protezione civile di Sant'Arsenio Daniela Croce e Giuseppe Branda il presidente del forum dei giovani di Sant'Arsenio Antonio Amabile le collaboratrici Denisa Amabile e Giulia Marmo e Vanessa Iorio infine hanno voluto esprimere il proprio sentimento di gratitudine verso tutti i genitori per la fiducia, l'entusiasmo e la gentilezza mostrata progetto estivo proseguirà fino al 31 agosto le attività verranno realizzate da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 nel pieno rispetto delle norme anti-covid La cultura a Montesano sulla Marcellana domani sera lo scrittore e psichiatra Corrado De Rosa presenta il suo ultimo romanzo dal titolo Italian Psycho un evento speciale per l'autore legato a Montesano terra d'origine dei suoi genitori vediamo Appuntamento con la cultura domani a Montesano sulla Marcellana con la presentazione dell'ultimo libro dello scrittore salernitano Corrado De Rosa dal titolo Italian Psycho la follia tra crimini, ideologia e politica la serata prenderà il via alle 19 in Piazza Castello presso il Belvedere Alda Merini psichiatra, autore di numerosi saggi scientifici divulgativi sull'uso della follia nei processi di mafia e terrorismo Corrado De Rosa spiega che Italian Psycho è il racconto di come e perché la follia è entrata nelle vicende più oscure della storia del nostro paese si tratta di un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri racconta e passa attraverso le stragi di stato le trattative fra stato e mafia le brigate rosse e le versione nera è una storia di vittime e carnefici dove i carnefici fanno finta di essere matti per ottenere benefici di giustizia e le vittime sanissime vengono screditate utilizzando la malattia psichiatrica come detonatore per le loro dichiarazioni considerate sconvenienti e quanto accadde per esempio ad Aldo Moro nei giorni del sequestro si disse che aveva la sindrome di Stoccolma per poter dire che se avesse dichiarato cose scomode per la politica lo aveva fatto perché si era invaghito dei sequestratori l'idea di scrivere questo libro è partita spiega De Rosa dalle perizie psichiatriche svolte su autori di reato e dall'essersi spesso occupato di mafiosi e terroristi ho messo su carta una parte del mio lavoro addetto un autore che legge molto più di quanto scriva spiega ancora parlando di se stesso dicendosi molto soddisfatto per le tante presentazioni del suo nuovo libro quando presenti un saggio c'è sempre il rischio di essere settoriale quando ho iniziato a scrivere Italian Psycho ho cercato però di partire dalle vicende umane e non dalla teoria ho cercato di parlare degli undici protagonisti del libro come se fossero i protagonisti di undici racconti dove però la realtà supera la fantasia appuntamento dunque domani sera con la presentazione a Montesano un evento dal valore particolare per l'autore i miei genitori spiega sono di Montesano le mie radici sono qui ho raccontato Montesano in un romanzo tornerà nel prossimo in un luogo dell'anima dove torno appena posso a sorpresa è stato avvistato ad Agropoli lo yacht della famiglia di Steve Jobs il Venus una nave da 80 metri della forma avveneristica nei giorni scorsi è tornato nel Cilento è tornato sulle rotte del Cilento il mega yacht della famiglia di Steve Jobs compianto fondatore della Apple a largo di Agropoli infatti è stata avvistata nei giorni scorsi Venus la superimbarcazione di 80 metri disegnata dalla società di design Ubik di Philip Stark in Olanda ed acquistata dal magnate americano per 105 milioni di dollari dalla forma futuristica vanto uno scafo esterno con grandi vetrate in cristallo temperato costruito in lega di carbonio ed alluminio con la prua metallizzata e luminescente molto simile al materiale con cui furono realizzati i primi iPod della Apple all'interno spazi extralusso e soltanto sei gigantesche cabine perché Jobs immaginò il Venus non come una barca di rappresentanza ma solo per sé e la sua famiglia purtroppo non riuscì mai a vederla morì un anno prima del varo il Venus era già stato ad Agropoli nel 2014 e nel 2018 e con questo servizio è tutto io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti Grazie a tutti.